Gaber, Buscaglione, De Andrè a un certo punto mi sono ritrovati e mi sembravano familiari però non so dirti com'è iniziata la cosa cioè non hai un ricordo di un papà che in macchina mette una roba? no, non credo fosse una roba che arrivasse dai miei genitori perché in realtà nessuno nella mia famiglia ha mai ascoltato così tanto i cantautori e più una roba che mi sono andato a cercare io non saprei, ad oggi ancora non capisco perché però più che altro ho delle epifanie cioè certe volte magari riascoltando una canzone o rivedendo un monologo dico questo me lo ricordavo, questo mi ricordo quando la prima volta l'ho visto l'ho sentito, mi ha colpito per questa frase per come dice questa frase, anzi più volte l'interpretazione che non la frase in sé non ti so, un giorno mi sono accorto che facevano parte della mia vita non so come sono entrati a farne parte però di colpo mi suonavano familiari ma credo che tuo nonno non sarebbe così contento della partecipazione sui social che c'è oggi nel senso che quando lui diceva libertà è partecipazione ma è una partecipazione consapevole è una partecipazione che ha radici nel ragionamento nella scelta di partecipazione noi non scegliamo di partecipare noi siamo costretti a partecipare oggi perché se non posti per tre giorni vuol dire che ti è morto qualcuno cioè se tu sparisci dai social la gente si preoccupa se tu non dici cosa pensi sulla questione dei vaccini o su qualunque argomento c'è i più disparati qualunque, dal calcio alla politica è tutto uguale tutti dobbiamo dire la nostra se no ci sentiamo esclusi in qualche modo dal bar e la differenza che c'era rispetto ai bar è che al bar poi se il tasso alcolico si alzava e tu dicevi la cosa sbagliata magari qualcuno te ne girava anche uno una volta e invece adesso sui social in fondo metti un nome falso non rischi neanche querele puoi augurare lo stupro alla prima ragazza che passa e nessuno ti dice niente e se questa è la partecipazione forse dobbiamo fermarci tutti un attimo e scegliere di fare un passo indietro e magari se partecipiamo meno succedono meno casini perché poi magari certe volte non dobbiamo partecipare tutti a una partita di pallone basta che giochino quelli che sanno giocare ogni tanto come paresti a raccontare a un ragazzo che ti segue una ragazza perché ha senso oggi conoscere Gaber cosa gli può dare a qualcuno che è nato negli anni 90 e non ha quel riferimento lì quello che mi piaceva che mi ha insegnato appunto è come fare musica e un discorso sociale attraverso l'ironia l'ironia utilizzata per mantenere l'attenzione del pubblico non saprei come convincerli io per convincerlo metterei in play secondo me la donna da lì in poi non devi mica dire niente cioè fa tutto lui con le battute che fa battute che raccontano qualcosa fanno ridere ma ti fanno ridere ragionando quello è quello che secondo me ti può dare in più capire che la musica si può fare anche così oggi non abbiamo tanti esempi di questa cosa e quindi devi per forza attingere al passato per poterglielo dimostrare Grazie a tutti